buonasera amiche e buonasera amici di tre gran minuti bentrovati eccoci qui nel post partita immediato di juventus napoli esattamente sei mesi dopo quello che invece sarebbe dovuto essere per commentare la vittoria del juventus prima di farlo vi invito a scaricarvi l'applicazione one football di cui trovate qui di sotto in descrizione il link per agevolarvi lo scarico un'applicazione leggera gratuita sulla quale potete trovare tante informazioni inerenti il mondo del calcio e selezionando la vostra squadra del cuore tante informazioni inerenti ad essa ad esempio adesso attivatela perché ci sarà tanto da leggere sulla nostra amata vecchia signora che questa sera vincendo contro il napoli finalmente finalmente si ridà un po di ossigeno prima di cominciare però come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube tenendo attiva la campanella delle notifiche ho in serbo altre spero importanti sorprese per voi ed in fondo alla puntata come sempre vi invito a mettere like al video dicevo una vittoria fondamentale di vitale importanza che ridà sicuramente ossigeno alla juventus in quest'ultimo periodo piuttosto difficile vissuto in maniera molto diciamo polemico ed ansioso questa sera una prestazione nel primo tempo a mio modo di vedere assolutissimamente di grande livello uno dei migliori primi tempi disputati dalla juventus di pirlo in questa ragione e forse non a caso nel momento di grande difficoltà qualche certezza qualche cosa di semplice ha giovato alla squadra mi riferisco soprattutto alla disposizione tattica un vero semplice 4-4-2 con due terzini meno propensi alla spinta e forse più bloccati come danilo ed alexandro e due vere ali come quadrado e chiesa una prestazione di squadra nel primo tempo a mio modo di vedere magistrale benissimo tutto il reparto arretrato da destra a sinistra passando per il surplus che questa squadra ancora ha nel nome di Gianluigi Buffon che questa sera nel secondo tempo una volta di più ha dimostrato quello che vuol dire avere alle spalle una sicurezza un giocatore di personalità un giocatore che sappia trasmettere e infondere fiducia in tutta la squadra guidarla quando è il momento di farlo e ripeto incoraggiare i compagni nel momento del bisogno e a questo aggiungiamo una prestazione sempre nel primo tempo stra positiva sia di Bentancur che di Adrien Rabiot come ovviamente non evidenziare la prestazione ultra positiva di chiesa ormai una certezza un uomo con veramente il dna bianconero dentro se stesso capace di fare tutte e due le fasi di sacrificarsi ma soprattutto di essere sempre pronto ad azzannare l'avversario magistrale stupendo il gol del vantaggio con il quale federico chiesa ha apparecchiato la tavola a cristiano ronaldo che qualche minuto prima si era invece divorato uno dei gol più clamorosi forse di tutta la sua carriera dopo che Danilo gli aveva servito veramente un cross al bacio ma quello che conta erano i tre punti soprattutto erano i tre punti e questa sera la Juventus finalmente spalle al muro messa alle corde come un pugile barcollante ferito con gli occhi quasi chiusi ma con la speranza di riuscire a trovare le ultime forze dentro se stessa per mettersi almeno temporaneamente alle spalle questo difficilissimo periodo che sicuramente è il più difficile degli ultimi dieci anni è riuscito a trovare una vittoria di vitale importanza con questa scavalca diciamo allunga possiamo dire anche scavalca il Napoli perché a parità di punti il Napoli aveva lo scontro diretto a favore lo avrà sempre considerando il gol purtroppo arrivato al minuto 89 con un calcio di rigore giustamente concesso dall'arbitro Mariani per un intervento maldestro di Chiellini su Osimen il Napoli nel secondo tempo ha certamente messo alle corde la Juve una Juve che ha sprecato in almeno un paio di ripartenze il possibile colpo del KO con una Morata che ancora una volta si è dimostrato poco incline a gestire questi contropiedi nella maniera migliore ma nel complesso una Juventus che ha saputo soffrire una Juventus che a differenza di quella che abbiamo visto per quasi tutto l'arco di questa stagione è finalmente risultata essere squadra e lo è risultata soprattutto nel momento di grande difficoltà di grande pressione da parte degli avversari non si è mai disunita e tutti insieme guidati ripeto da un surplus che porta il nome di Gianluigi Buffon 43 anni è stata in grado di gettare il cuore oltre all'ostacolo e portare a casa una vittoria importantissima il Napoli avrà dalla sua l'eventuale differenza reti negli scontri diretti qualora ci fosse un arrivo a pari punti ma adesso è importante pensare che la Juventus ha tre punti in più è una Juventus che va con la testa sicuramente più serena alla sfida di domenica sempre all'Allianz contro il Genoa una Juventus però che non deve allentare la pressione e che deve tassativamente mentalizzare il fatto che il Genoa non sarà il Napoli da un punto di vista del blasone ma sarà una partita probabilmente ancora più difficile perché proprio in queste sfide la Juventus di quest'anno ha faticato a trovare quella continuità e quell'atteggiamento giusto per tutto l'arco dei 90 minuti tant'è che la stragrande maggioranza dei punti che la Juventus ha lasciato per strada li ha lasciati contro le squadre di bassa classifica o considerate così medio piccole e non dimentichiamo che la Juventus di qui alla fine di quelle che stanno diciamo nelle prime posizioni della classifica fatta eccezione l'Inter che ormai è lanciata verso la conquista del suo diciannovesimo scudetto è quella che ha il campionato il calendario sicuramente più articolato e complesso però la Juventus quest'oggi è stata in grado di sovvertire quelli che erano i pronostici perché analizzando un pochino gli umori in giro per il web nelle varie trasmissioni era difficile pensare non impossibile che la Juventus potesse vincere questo no ma era difficile pensare ad una prestazione soprattutto ripeto quella vista nel primo tempo così convincente il Napoli probabilmente stesso non se l'aspettava tant'è che ha sofferto l'intraprendenza il ritmo dei bianconeri venendo poi fuori nella ripresa ma si è trovata a quel punto di fronte una Juve ferita una Juve che per una volta ha deciso e ha voluto fortemente rendere cara la pelle e rendere la vita comunque difficile ad un avversario che nel secondo tempo si è dimostrato certamente alla sua altezza oggi però vince la Juve vince 2-1 lo fa con i gol di Cristiano Ronaldo e ora posso dedicare giusto tributo alla gioia Paolo Di Bala che dopo tre mesi torna in campo e finalmente lo fa da protagonista perché è suo il gol decisivo a questo punto possiamo tranquillamente definirlo così perché vince la Juventus 2-1 e lo fa con un gol di Paolo Di Bala che con un suo sinistro chirurgico dal limite dell'area dopo un'azione caparbia di Cristiano Ronaldo che ha voluto inseguire un cross lunghissimo di Alessandro porgendo palla all'indietro servita a Bentancur che toccando per Di Bala ripeto trova l'angolino giusto con uno dei suoi gol magici di sinistro e finalmente dopo mesi di polemiche dopo mesi di a parlare più delle fuoricampo dei social dei problemi col contratto possiamo parlare di un Paolo Di Bala quel Paolo Di Bala che nella scorsa stagione è stato votato MVP della Serie A 2019 e 2020 e che torna in campo finalmente da protagonista con la maglia della Juventus addosso e regalando con un suo gol tre punti che sono per la Juventus oggi di fondamentale e vitale importanza la speranza è di aver ritrovato il giocatore a 360 gradi e che possa di qui alla fine dare il suo contributo per conquistare quell'obiettivo minimo che è centrare un posto in Champions per la prossima stagione e poi il 19 di maggio giocarsi la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Io ragazzi ho vissuto questa sfida con con tanto pathos e con tanta adrenalina perché temevo che per oggi per la Juventus potesse arrivare una scoppola sono orgoglioso e fiero invece di poter commentare una Juventus che ha saputo reagire alla grandissima a questo momento di difficoltà e a questo punto lascio a voi qui sotto i vostri commenti che cercherò di leggere e qualora fosse necessario anche di poter rispondere perché siete tanti cominciate a scrivere tantissimo mi fa molto piacere io vi leggo cerco di rispondere ma non vogliatemene se qualche volta non riuscirò a farlo con tutti. Ringrazio anche tutti coloro che sono stati qui incollati su questo canale in questi giorni in cui abbiamo condiviso anche un'altra gran intervista ma vi invito a non abbandonarlo perché ripeto ho in sera per voi ancora delle importanti sorprese. Ragazzi finalmente ci godiamo una serata in grande serenità almeno per una volta potremmo pensare al campo non alle polemiche e quindi io vi lascio con un grande forza Juve e vi invito a mettere like al video ciao ragazzi e ora sempre forza Juve iscrivetevi al mio canale youtube mettete like al video seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video ciao